Il dibattito in aula per eliminare le agevolazioni per il noleggio senza conducente. Toscana e Spot 2022 cancella l'odio e il video vincitore contro l'Hate Speech. No Hate è il tema scelto per la non edizione del concorso. Presentata la 51esima edizione della mostra a mercato del tartufo di San Mignato, che per tre fine settimana renderà protagonista il comune toscano. Al centro del Consiglio straordinario, convocato mercoledì 2 novembre, le modifica la legge sulla tassa automobilistica regionale. La discussione in aula si è aperta con la richiesta di sospensiva presentata dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, in quanto, secondo i proponenti, la proposta di legge non rientrerebbe nella casistica d'urgenza citata nel comma 3 dell'articolo 126 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. La richiesta è stata respinta dall'Aula. Il bollo auto per tutti i cittadini rimarrà per l'anno prossimo esattamente quello che è ora. La modifica va a incrementare invece il bollo auto degli utilizzatori dei mezzi a noleggio. Quindi una nicchia, una categoria molto precisa. Perché? Perché è cambiata la legge a livello nazionale, invece che le imprese proprietarie dei mezzi che vengono messi a noleggio la pagheranno gli utilizzatori e conseguentemente se le imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione che poi le teneva in Toscana, altrimenti le agevolazioni magari le trovavano in altre regioni e quindi con un vantaggio da parte della regione, nel momento in cui cambia la legge nazionale a pagare il bollo sono gli utilizzatori, allora è giusto che paghino quanto pagano gli altri proprietari, ovvero tutti i cittadini che hanno la loro auto. Quindi è stata semplicemente un'operazione di perequazione fiscale. Sono tre le novità che vengono introdotte nella disciplina del bollo auto. La prima, la più significativa in termini numerici, riguarda il noleggio a lungo termine e senza conducente. Nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni, di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente. Queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale. Anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento, ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo, ma direttamente dall'utilizzatore. Pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana venga corrisposto, analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli, il bollo direttamente alla regione toscana. Dall'altra parte però c'è anche un altro importante cambiamento che riguarda le automediche. Non soltanto quindi le auto adibite ad ambulanza godono dell'esenzione dal bollo, ma grazie a questa legge l'estensione viene fatta anche alle automediche. E da ultimo si stabilisce l'effetto automatico della sospensione del pagamento del bollo al momento della trascrizione e della cessione alle imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli. Ma Eteravia ha votato contro questa legge perché riteniamo inopportuna un aumento delle tasse che non venga poi correlato a un'attribuzione di queste risorse che sono 9 milioni di euro a favore poi delle imprese, dei commercianti, degli artigiani, di colori che più di altri stanno soffrendo. Quindi noi avevamo detto fin della settimana scorsa che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione, quella condizione che queste risorse siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti, da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto a noleggio potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette, al caro energia. Riteniamo che questo sia una cosa ingiusta. Non servono queste risorse per pagare il buco della sanità. Se questo c'è deve essere spiegato se esiste o se non esiste. E quindi su questo ci chiediamo chiarezza. Ovviamente la maggioranza di governo è regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori, sui nostri principi. Insomma si può perdere una battaglia in aula ma non si può perdere la dignità. Quindi per noi questa imposizione fiscale non esiste perché altrimenti queste risorse andavano destinate qualora si voleva aumentare le tasse soltanto a favore delle imprese. La Lega ha votato contro la proposta di legge del PD non tanto perché eravamo contro a togliere il 10% di sconto per chi ha dei veicoli a noleggio quanto piuttosto critichiamo e fortemente il metodo. Dubitiamo seriamente del carattere di urgenza di questo Consiglio perché tutti sanno che entro il 10 di novembre eventuali modifiche sul bollo auto devono essere adottate dalle regioni. Quindi c'era tutto il tempo per intervenire e questo non è stato fatto. Siamo arrivati in fretta e furia ad approvare un provvedimento che non è chiaro neppure per quanto riguarda le fatti specie di riferimento. Noi abbiamo presentato un emendamento per dire se si tratta soltanto dei veicoli a noleggio a lungo termine così come fa riferimento la normativa nazionale o anche a quelli a breve. C'è molta confusione. Punto primo, è stato chiesto un Consiglio straordinario di urgenza quindi convocato di proposito con i costi che ha un Consiglio straordinario la motivazione e la richiesta di urgenza da parte del Presidente Gianni era la necessità di adeguarsi ad una legge la legge numero 504 del 1992 cioè è dal 1992 che le tariffe del bollo auto si fissano entro il 10 di novembre il Presidente Gianni il 2 di novembre si rende conto di non aver fatto l'adeguamento delle tariffe del bollo auto e convoca un Consiglio di urgenza per farle il 2 di novembre. Primo punto. Secondo punto, cosa si va a fare? Si va a stabilire che in Toscana dal primo di gennaio del 2023 chi ha un'auto a un noleggio a lungo termine dovrà pagarci sopra il bollo auto cosa che fino ad oggi questo non veniva fatto chi è che ha auto con il noleggio a lungo termine? Professionisti, imprenditori, partite IVA categorie che mi pare che negli ultimi anni di vessazione ne abbiano già avute abbastanza queste figure dal primo gennaio del 2023 dovranno pagare anche il bollo auto. La Giunta regionale evidentemente ha bisogno di andare a cercare delle risorse finanziarie perché è l'unico modo con cui si giustifica la fretta e il modo con cui in questo momento sono andati a mettere le mani nelle tasche di partite IVA, piccolissime imprese fatte anche da una sola persona che sono quelli del noleggio auto a lungo termine ad esempio per ricavare 9 milioni di euro che mi viene da pensare sono quasi la stessa cifra che un anno fa era stata data a Toscana Aeroporti come ristoro salvo poi sapere che erano stati divisi gli utili da quel punto di vista un'altra cosa molto curiosa è che vengono chiesti questi 9 milioni in più dalle casse che vengono comunque sono mani in tasca che vengono messe a una categoria che lavora e che produce ma non si sa come vengono finalizzati e soprattutto viene da pensare se la regione non abbia trovato altro su cui risparmiare o su cui riuscire a incassare maggiormente Finalmente la Giunta è riuscita a chiarire quelle che erano le evidenti intenzioni ovvero quella di cercare di reperire delle risorse che andassero a colmare una lacuna della nostra sanità che pare oggi essere quasi un treno alla soglia del deragliamento quindi c'è una situazione sicuramente critica che oggi ha richiesto questo intervento straordinario dall'altro però sono molto soddisfatta perché di fronte a quella che sembrava essere quasi una destinazione definita quasi inaspettatamente è stato approvato è passato al voto dell'Aula un nostro ordine del giorno che su quei 9 milioni finalmente cercava almeno di dare una risposta alle imprese ovvero prevedendo che queste risorse andassero ad essere destinate per quanto riguarda interventi strutturali per far fronte a carobollette o meglio all'efficientamento energetico degli edifici produttivi cancella l'odio è il titolo del video spot vincitore di Toscana in spot 2022 è stata infatti dedicata al contrasto al linguaggio violento la nona edizione del bando del comitato regionale per le comunicazioni i tre migliori spot audiovisivi che si sono aggiudicati il monte premi di 10.000 euro sono stati presentati martedì 25 ottobre alla presenza degli autori nel Mediacenter Zassoli di Palazzo del Pegaso è bello sapere che ognuno di noi può e deve fare la sua parte perché quello che accada accada sempre meno e ragazzi voglio mandare un messaggio non siate mai indifferenti di fronte a tutto questo e come il video che si aggiudica il primo premio termina con un colpo di spugna contro le parole d'odio io credo che noi dobbiamo fare la nostra parte essere a fianco a tutti coloro i quali si impegnano in questa direzione e allora compito delle istituzioni è quello di non voltarsi mai dall'altra parte di sostenere ogni iniziativa, ogni progettualità andando nelle scuole per segnalare quanto oggi sia importante questa battaglia contro le parole d'odio ogni anno cerchiamo con questa occasione di coinvolgere i tanti giovani che lavorano nel settore della comunicazione attraverso gli spot attraverso piccoli film e cerchiamo di lanciare dei messaggi che sono legati alle tematiche che insistono sulle condizioni delle nostre quotidianità le parole d'odio sono una componente che fa parte a questo punto della vita di tutti e tutti noi le parole sono come un filtro che si va a spiaccicare sopra i vetri che ci permettono di vedere quello che è fuori, quello che è il mondo e non ci permettono più di vedere quello che è di bello che c'è di fuori del nostro mondo che ci ritagliamo se noi avessimo la capacità, avessimo il coraggio di cancellare di pulire queste macchie che vanno a formarsi sulla nostra maniera di vedere il mondo riusciremo anche a vedere la bellezza che c'è dietro a tutto questo quindi ogni parola d'odio che diciamo ogni commento, ogni giudizio va a limitarci va a imprigionarci dentro l'odio dentro la parte brutta del mondo il tartufo bianco, eccellenza del territorio di San Mignato è il grande protagonista della 51esima edizione della Mostra Mercato che per tre fine settimana il 12 e 13, il 19 e 20 e il 26 e il 27 novembre animerà il comune toscano trasformandolo nella capitale del tartufo in Italia il tema scelto quest'anno è la sostenibilità ambientale San Mignato è al suo più importante appuntamento annuale la Mostra Mercato del Tartufo Bianco che vede nelle tre fine settimana di novembre l'appuntamento con quella che è la capitale del tartufo in Toscana il centro da cui il tartufo riesce a irradiarsi nelle tavole di tutta Italia, di tutta Europa, di tutto il mondo e ormai la Toscana insieme al Premonte rappresenta punto di riferimento vi sono almeno 40 feste del tartufo in Toscana e San Mignato naturalmente è stata un po' la prima e contemporaneamente anche per le esportazioni attraverso le trasformazioni che le aziende riescono a fare si propone come riferimento del tartufo il grazie più grande voglio farlo a tutti i tartufai che con impegno, passione, dedizione riescono a offrirci questa prelibatezza voglio anche mandare un messaggio, un messaggio forte non può esserci tartufo di calità se non abbiamo un ambiente sano è allora necessario investire sulla sostenibilità ambientale costruire le condizioni perché quei luoghi siano sempre luoghi più sostenibili tutto questo è possibile sicuramente grazie al nostro impegno ma soprattutto a quello dei tartufai che mantengono vivo l'ecosistema e che permettono di far conoscere al mondo una delle nostre prelibatezze che porta San Mignato nella cima del mondo e che permette in quei giorni di far la capitale del tartufo toscano e nazionale una stagione con poche piogge quindi tartufo molto poco quello che c'è è buono però la mostra mercato non è solo tartufo è anche una festa di tutto un territorio di tutto un paese un territorio che vive anche di questo prodotto d'eccellenza quindi dal 12 novembre San Mignato si veste nuovamente a festa per la 51esima edizione una 51esima edizione che è sempre estremamente attesa tre fine settimana tartufo speriamo che si trovi dell'altro le piogge di settembre di fine settembre fanno ben sperare speriamo che il clima sia buono come questo questo sì perché una delle variabili principali sulle presenze dentro la mostra è il bel tempo e ora non si può dire che non sia bel tempo la scelta distintiva di questa mostra è la sostenibilità ambientale cioè noi abbiamo fatto una scelta cioè ogni volta cerchiamo di individuare una tematica su cui ruotano tutte le iniziative che non solo sono enogastronomiche che sono le più importanti ma anche culturali, di tipo sociale eccetera l'anno scorso la mostra declinata al femminile quest'anno è un tema importante ovviamente che è la sostenibilità ambientale tant'è vero che faranno parte importante, sostanziale della mostra anche di diverse conferenze e anche un bel convegno che anticipa la mostra proprio sulla sostenibilità ambientale che avrà al centro il tartufo che da dicembre dell'anno scorso è stato riconosciuto dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità è stato riconosciuto dall'UNESCO